Innanzitutto volevo fare i complimenti alla squadra, sì, grande prova in fase offensiva. Dietro dobbiamo migliorare in alcune situazioni, però comunque perché oggi eravamo molto sbilanciati in avanti. Avevamo quattro punti alla fine, di Cori, Palombi, Italiano, Bongars, quindi avendo quattro bocche di fuoco è normale che abbiamo sofferto. Però comunque loro sono molto bravi davanti, a mio avviso forse è una delle migliori squadre. Comunque giocano a pallone, buoni fraseggi, poi hanno il numero 10 che è molto bravo. Sicuramente con la società, in qualità di direttore sportivo, sto facendo un colpo importante dietro, l'esperienza, tutto qua. La dimandata poi. La dimandata, eh. Vincere, convincere e stravincere, dobbiamo arrivare a primi. E distaccare il più possibile la seconda perché non voglio fare playoff, questo è l'obiettivo, grazie.